Giulia Latini volta pagina, chi è il ragazzo misterioso? Si torna a parlare ancora una volta di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini al trono classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I molti tifavano per lei, alla fine però il tronista ha scelto Soleil Sorge, Onestini ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vipede e stato lasciato da Soleil poco dopo il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra Luca e Giulia, entrambi però hanno affermato che tra loro può esserci solo amicizia. A quanto pare la Latini potrebbe aver trovato l'amore, poche ore fa ha infatti postato una foto su Instagram Stories alimentando la curiosità dei fan. La foto postata da Giulia alimenta il pettegolezzo. La foto postata da Giulia Latini sul suo profilo Instagram mostra l'ex corteggiatrice abbracciata ad un ragazzo misterioso, ha anche aggiunto un cuore alla foto, poco dopo averla pubblicata pare proprio, che Giulia si sia pentita, ha infatti rimosso la foto da Instagram Stories. Potrebbe trattarsi semplicemente di un amico, oppure ha finalmente trovato l'amore dopo il fallimento a uomini e donne, non ci resta che attendere nuovi indizi per scoprire la verità. Potrebbe trattarsi semplicemente di un amico, oppure ha finalmente trovato l'amore. Potrebbe trattarsi semplicemente di un amico, oppure ha finalmente trovato l'amore.